Croce o tardi, riparte Quattro Amici al Bar, una rassegna annuale che vede la partecipazione di numerosi artisti. Cambiate quest'anno location, ma è chiaro che non cambia il contenuto, quello di portare cultura in città. Portiamo di nuovo come ogni anno da 12 anni, 13 anni, non mi ricordo più, portiamo l'arte proprio a portata di mano di tutti, sotto il cielo di Gela. Tanti artisti anche quest'anno si sono riuniti da Antonio Echipinti, Lino Picone, Salvo Burgio, Giovanni Cappello, tantissimi, me ne sfugge pure qualcuno. Poi anzi invito i cittadini a venire, così vedete a chi abbiamo. Abbiamo veramente degli artisti che credono nel territorio e investono nel territorio perché sono rimasti a Gela. Quello che dico io, venite, perché quest'anno abbiamo tante chicche. Ad iniziare da sabato, da domani, abbiamo il professore Annuccio Mule che curerà una videoproiezione di cartoline e foto d'epoca del corso Vittorio Emanuele, dalla mulina a vento fino ai quattro canti, una videoproiezione commentata. Avremo dei giocolieri del fuoco, devo dire che è difficile organizzare qualcosa a Gela. Ma noi ci crediamo nel nostro territorio, caro Giuseppe, ci crediamo e investiamo, gli mettiamo tutte le nostre forze perché crediamo che con l'arte effettivamente si aprono gli orizzonti. E noi vogliamo che i nostri cittadini amano un po' di più il nostro territorio e ci proviamo. Ecco, diciamo, è un esordio di intervista che però quest'anno avete cambiato location. Abbiamo cambiato location, saremo di fronte alla Chiesa Madre all'Auto Sud nel cortile del Marchese Aldisio, corte privata del Marchese Aldisio, dove c'è la nica caffetteria e vi dicendo. È una bellissima location, è giusto portare l'arte, come ho detto poco fa, non voglio essere ripetitivo, in tutti gli ancoli di Gela. Siamo stati in piazza San Francesco nel tempo, siamo stati nelle scalinate del municipio, siamo stati nei vari cortili. Quest'anno ritorniamo in un cortile caratteristico che è il proprio cortile del Marchese Aldisio. Possiamo definirla una vera e propria carovana culturale itinerante. Sì, una carovana culturale itinerante, poeti, pittori, artisti a 360 gradi in tutte le sue forme. Ecco, ricordiamo dunque l'appuntamento domani dell'inaugurazione. Sì, domani dalle 17 alle 24, sabato e domenica, e tutti sabato e domenica di agosto. Dunque è un weekend riservato alla cultura, all'arte e alla pittura. Diciamo così, venite, invitiamo i cittadini, passate un paio di ore a godervi delle opere interessanti.